Cerca i didi! Quanti anni ha? E fa due il 28 novembre. Ecco, un bambino che fa due anni il 28 novembre cerca un video su YouTube. Non lo trova? No, perché non è quello. Non l'ha trovato perché non c'è? No, ma io lo ho trovato su YouTube perché è questo che sta pari. Io vado sempre a questo pari. Eccola, che cos'è questa? La cercate, la scelta? Sì, sì. La scilietta. E se mi mette, vedete, sbaglio una che non ti piace. La scilietta è gratta, gratta. Comincia a dire, a piace, a voglio, a voglio. La scilietta. Ma qui non c'è, mi sa. Eccola. Adesso parte, eh. E la peppina. Eccolo, l'ha trovato? Io non ho capito bene se eventualmente la foto sua la farebbero vedere il giorno del compleanno o anche prima. Ma comunque là c'è scritto che mi mandano un messaggio nel caso in cui il bambino viene scelto. Però tu considera che io glielo ho mandato a scadenza e là c'è scritto che chi prima arriva vende a loggia. Ok. L'ho mandato tipo, scadeva il 20, l'ho mandato il 19 e sera. TPC preventing. L'ho mandato tipo, scadeva il 26 e orange. Ciao. grazie